L'emozione da tifoso e l'emozione da gestore di questa realtà? Tifoso, dieci anni fa quando è nata la società, speravo, 11 anche, speravo a vivo in un playoff, di vedere un playoff, adesso siamo più i campioni del mondo, quindi è indescrivibile, è un sogno che si realizza. Dal punto di vista diligenziale sono orgoglioso, sono orgoglioso e ogni giorno lo faccio sempre con più passione perché poi la cornice di seguito e di pubblico è quella che c'era anche questa sera, quindi l'energia non manca mai e continuo a farlo con l'entusiasmo del primo giorno. Quindi la motivazione e certitudine ci saranno anche in futuro? No, siamo giovani, siamo due presidenti giovani, energia ne abbiamo tanta, voglia ne abbiamo tanta, è l'ultima cosa che ci manca.